La miglioramento con simulatria e la migliorazione. La vera migliorazione di che anzi io questo non è il massimo. Qualcun altro momento è in pace e è arrivato dopo. Io racconto una storia come mi ha insegnato mio amico Delca. Io sono molto amico del Delca e del Sargano. La Delca ha un parlato che non ha un problema che ci deve essere sempre qualcosa da raccontare. Ma inoltre ho un parlato, soprattutto adesso, davanti al ruolo del Dio e dietro gli enti. Che deve raccontare, da Sargano ho imparato, che il contenuto deve andare nel pari passo con il dato formale. Certo, se devo scegliere tra una foto di contenuto e una foto formale, c'è sempre quella del contenuto. Però se il contenuto aggiungiamo anche il dato formale, diamo più forti in sé e facilitiamo la lettura delle immagini. che mi hanno portato a un'occhio di Dio e di Dio e di Dio e di Dio. Perché il Dio e Dio è un po' di Dio e di Dio e Dio? Perché sono in sangue? Perché viene la fotografia del Dio e Dio? Perché i miei grandi maestri, che avevano a loro, quando ho cominciato, si che non è in un'occhio di Dio e Dio e Dio.